Ancora fiamme nella notte in zona Rosaneto di Tortora ad essere colpito, questa volta un terreno nei pressi dello stadio Umberto Nappi, che però è stato soltanto sfiorato dalle fiamme. Il rogo è partito intorno a luna ed è stato alimentato dalla vegetazione e dal vento, dopo circa un'ora l'intervento degli operai comunali che avevano da poco lasciato il servizio, con l'ausilio dell'autobotte comunale che ha circoscritto le fiamme domate intorno alle 4 di questa mattina. La preoccupazione però è stata alta dal momento che nei pressi del punto in cui è scoppiato l'incendio ci sono diverse abitazioni che fortunatamente non sono state toccate. Sul posto, oltre alla squadra di operai, il sindaco di Tortora Pasquale Ramboglia e i carabinieri della locale stazione di Praia Mare. Nessun intervento da parte dei vigili del fuoco, ripetutamente chiamati, ma che purtroppo erano impegnati in un altro grande incendio a Santa Domenica Talao. Questa mattina ancora gli ultimi interventi di spegnimento e pulizia dell'area. Sempre ieri da Mantea, invece, un grande incendio ha messo a rischio molte case. I carabinieri sono stati costretti a sgomberare per sicurezza 30 persone in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e successivamente dei mezzi aerei. Alcuni militari sono stati portati poi nell'ospedale di Paola per aver inalato il fumo dell'incendio e per alcune ustioni. E questi sono solo alcuni degli ultimi roghi scoppiati in Calabria, una piaga che non ha risparmiato nessuno. Soltanto nella nostra regione negli ultimi tre mesi sono stati oltre 5.000 gli incendi, il doppio dello scorso anno, di questi circa 2.000 nella sola provincia di Cosenza. Quasi 6.000 gli ettari di vegetazione andati in fumo per non parlare del pericolo a persone e case. I dati, ovviamente parziali, sono stati diffusi da Lega Ambiente che delinea un quadro che fa a capponare la pelle. Tra i fattori che hanno aiutato i piromani perché alla favola dell'autocombustione non crede più nessuno, la parziale o la mancata approvazione del piano di antincendio boschivo, una macchina organizzativa che fa acqua da tutte le parti, l'insufficienza delle forze messe in campo che ovviamente non riescono a coprire tutte le emergenze e soprattutto la soppressione e l'accorpamento del corpo forestale dello Stato all'arma dei carabinieri. Ma ormai la stagione estiva è quasi giunta al termine e con essa si spera anche gli incendi che come ogni anno torneranno nel dimenticatoio fino al prossimo giugno. Bisognerebbe invece discutere subito su qual è il reale fattore che ha portato a questo esplode incendi. Prevenzione infatti non vuol dire soltanto dotarsi dei mezzi che consentono di combattere i roghi, vuol dire anche presidiare il territorio e domandarsi che fine abbiano fatto le persone che fino a pochi anni fa lo facevano. L'abbandono delle zone rurali, l'antieconomicità degli interventi forestali e di conseguenza l'aumento incontro all'atto della superficie dei boschi sempre più fitti e carichi di materia legnosa hanno provocato questa situazione. Il territorio pubblico o privato non è più gestito e manca la consapevolezza nella politica come nell'opinione pubblica di cosa comporti avere grandi continuità di boschi. La soluzione potrebbe dunque arrivare incentivando un controesodo nelle zone montane e una gestione responsabile, perché no, magari retribuita, che diventi un'attività di primaria importanza contro il degrado che rende vulnerabili territorio e boschi con pesanti ricadute di natura ambientale, sociale ed economica. Alle azioni in loco devono inoltre necessariamente corrispondere attività di sensibilizzazione, educazione e ripristino di quella cultura delle foreste che per secoli ha rappresentato un modello positivo di rapporto tra uomo e territorio e che da sola potrebbe metterci al riparo dal pericolo degli incendi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.